benvenuti amici d'italia 7 qui a firenze spettacolo il mensile di anteprima sui migliori eventi a firenze e in toscana da venerdì 16 a domenica 18 al giardino corsini artigianato e palazzo tre giorni dedicati all'artigianato in un bel contesto come quello appunto del giardino corsini sono 90 i maestri artigiani protagonisti da non perdere però anche due standard gastronomici uno è quello della storica gelateria badiani l'altro invece della scuola di cucina cordon ble con le sue cooking show domenica 18 invece torna la classica del ciclismo storico la gran fondo del gallo nero in tutto il territorio del chianti classico una gara ciclistica senza dubbio ma anche un'occasione che unisce sport ed enogastronomia nel chianti classico dal lunedì 19 a mercoledì 21 la fiera del lavoro della toscana alla fortezza da basso un momento d'incontro tra domanda e offerta protagoniste le imprese e i centri di impiego che incontrano così i cittadini che sono in cerca di lavoro che lo vogliono cambiare un'occasione da non perdere la fiera del lavoro della toscana da lunedì 19 a mercoledì 21 alla fortezza da basso mentre siete tutti invitati ancora pochi posti per il nostro god save the wine giovedì 22 settembre da obica in via tornabuoni a firenze tantissime aziende vinicole protagoniste in abbinamento al menù del ristorante obica del mozzarella bar tutto gestito e da andrea gori il nostro direttore artistico per una serata social che riempie ormai le serate delle notti fiorentine da oltre nove anni per partecipare basta acquistare la prevendita su firenze spettacolo punto it slash store infine vi ricordo sempre su questo sito tantissime le occasioni per scontri speciali su cene ristoranti manifestazioni benessere e spettacoli dal vivo io vi auguro allora buoni eventi a firenze e in toscana